Salve a tutti, ben arrivati su Italy Rocks. Io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Ho una confessione, io e la lingua italiana siamo come pane e cacio. Se tutti voi volete che la lingua italiana diventi pane per i vostri denti, allora siete arrivati sul canale YouTube fatto apposta per voi. Qui infatti imparerete e approfondirete la conoscenza della lingua italiana parlata, fondamentale per essere in grado di comunicare. Se mi seguirete con continuità potrete senz'altro rendere pan per focaccia a chiunque vi abbia scoraggiato ad iniziare questo vostro viaggio. Allora gente, indovinata la parolina? L'avete sentita? Dall'inizio del video l'ho ripetuta ben tre volte. Curiosi? La soluzione vi aspetta subito dopo la sigla. La parola da indovinare è pane. È stato difficile? Avete avuto problemi nel capire la mia voce? Qual è stata la definizione che vi ha fatto indovinare subito subito la parola? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Ci tengo. A chi non piace il pane? Con il progresso della medicina da un lato e dell'industria alimentare dall'altro, oggigiorno anche le persone celiache, quindi gli individui glutine intolleranti, possono godere di questo antichissimo e nutrizionalmente validissimo prodotto alimentare. Avete sentito? Ho osato usare il verbo godere che purtroppo ha una brutta, anzi pessima reputazione fuori dall'Italia. E volete sapere il perché? Volete imparare a usare questo verbo in modo corretto? Bene, allora guardate il mio video della serie parole spinose interamente dedicato a questo paria del lessico italiano. Ma torniamo al nostro pane e vediamo la prima definizione. In Italia è alla base della piramide alimentare. Sì, è proprio così. nella cosiddetta dieta mediterranea e quindi anche in Italia, il pane è basilare per una alimentazione bilanciata. Ma come si prepara il pane? Beh, ogni panificatore ha la propria ricetta, ma in generale si può dire che bisogna prima di tutto preparare l'impasto. L'impasto si ottiene col mescolare farino di grano oppure di altri cereali, acqua, qualche forma di lievito attivato e alla fine, ma proprio alla fine, sale. Qualche volta, soprattutto per panificazioni durante ricorrenze speciali, all'impasto vengono aggiunti condimenti o aggiunti condimenti o altri ingredienti particolari. Due esempi potrebbero essere i seguenti. Il pane all'olive, che si trova in tutta Italia, e il pane all'olio, anch'esso diffusissimo su tutto lo stivale. Ma il migliore è, secondo me, quello che si prepara e si mangia in Sicilia. Un consiglio, assaggiatelo la prossima volta che visiterete questa meravigliosa isola. Come ho già detto, si possono anche usare farine di altri cereali. Per esempio, si può preparare il cosiddetto pane di segale, pane di mais, pane ai cereali multipli. Se poi, oltre alla farina dei cereali usati, si aggiungono le loro cosiddette crusche, il prodotto prende il nome di pane integrale, che era l'indizio per la parola soluzione nella seconda definizione. Ma cosa sono queste crusche? La crusca di un dato cereale non è altro che il residuo della sua macinazione, ed è fatto da scagliette larghe e molto ben distinte. Proprio per l'alta percentuale di fibre alimentari, il pane integrale è probabilmente il più salutare da consumarsi quotidianamente. Una volta che l'impasto è preparato, gli si fa prendere una forma particolare, secondo tecniche tipiche adatte ad ogni tipo di pane. Il procedimento dipende sia dalla regione italiana che dalla particolare città di produzione, ma non solo. Molto spesso, infatti, ogni panificatore in quella data città ha il suo particolare metodo. Una volta preparato e sagomato, l'impasto viene cotto in un forno. Nel sud Italia, qualche volta, l'impasto crudo si fa cuocere sotto la cenere ardente di un cabinetto. Spesso i metodi di cottura sono così numerosi quanto le tipologie e i panificatori. Penso sia interessante per voi conoscere i nomi delle parti che compongono una forma di pane dopo la cottura. Quindi del pane si ha la crosta, che è la parte esterna, più scura e molto spesso croccante. La mollica, mi raccomando, l'accento tonico. È invece la parte interna, più chiara e morbida. La mollica può essere usata fresca, oppure più frequentemente secca e reidratata in acqua oppure latte, per preparare per esempio polpette o polpettone. Questa parte del pane può essere usata anche per preparare molti ripieni di carni e verdure. Cos'altro si può fare con la mollica secca? Beh, la si può grattare, cioè la si riduce in frammenti piccolissimi con l'aiuto di una grattugia. Il prodotto finito di questa azione viene chiamato pan grattato, oppure anche pane grattugiato. L'uso di questo prodotto è un fondamentale aiuto nella tecnica del friggere carne, pesce o verdure, che vengono sottoposte alla tecnica dell'impanare, che è l'azione di passare più volte nel pan grattato il materiale che deve essere fritto in abbondante olio caldissimo. Prima di passare alla descrizione di alcuni tipi di pane che si possono trovare in giro per l'Italia, voglio darvi un po' di vocabolario. Per esempio, i verbi generalmente associati al pane sono mangiare, ma questo non ve lo devo spiegare. Spezzare è il verbo che indica l'azione di dividere, oppure rompere in due o parti, una forma di pane che offre una certa resistenza, con l'aiuto delle sole mani, come vedete fare al personaggio nella clip. Il tipo di pane che la persona ha rotto è di media pezzatura, ma chiaramente la stessa azione può essere benissimo compiuta su un qualsiasi tipo di pane. Un altro verbo legato al pane che è essenziale per tutti voi di sapere ricordare è tagliare. Di solito questo verbo descrive il dividere un pane, di solito di grande pezzatura, in parti più piccole con l'aiuto di un coltello. Chiaramente però può essere usato per qualsiasi tipo di pane. Un altro termine importante da sapere ricordare è la fetta, che rappresenta il prodotto dell'azione del tagliare. Quindi alla fine del processo di taglio si dice che il pane è stato tagliato a fette. Una parola composta che esprime questa azione in modo splendido è il verbo parasintetico affettare. Se non l'avete notato qualche minuto fa vi ho dato un altro di questi verbi parasintetici, impanare. Ma cosa sono questi verbi parasintetici? Se volete sapere qualcosa in più su questi utilissimi e usatissimi verbi vi consiglio di dare un'occhiata a due miei video sull'argomento in modo da aggiungere un'arma potentissima al vostro arsenale linguistico italiano. Una volta tagliato a fette ogni fetta può essere trattata ulteriormente. Per esempio può essere abbrustolita oppure tostata. Sapete benissimo che la parola inglese toast come sostantivo indica un prodotto alimentare ben preciso e ben definito. Gli italiani hanno adottato questo termine inglese nel loro lessico quotidiano. Purtroppo però la parola non viene usata con lo stesso significato semantico. Mi spiego. Prima di tutto gli italiani per colazione non hanno il classico piece of toast che molti di voi prendono d'abitudine alla mattina per colazione. Quello che in Italia gli italiani capiscono quando sentono questa parola è qualcosa di completamente differente. Il toast italiano è quello che vedete nell'immagine e che molti anglofoni chiamerebbero toasted sandwich. Per esempio quando un italiano entra in un bar verso l'ora di pranzo diciamo circa mezzogiorno per mangiare una cosetta veloce nove volte su dieci chiederà un toast che può essere sia semplice che farcito. Il barista cioè la persona che prende l'ordine quindi userà un toast a pane per prepararlo. Il pane che si usa in Italia per preparare questo sandwich si chiama pane a cassetta. È chiaro quindi che in Italia non esiste il concetto di toast come singola fetta di pane servita come tale. Ma allora cosa mangiano a colazione gli italiani? Sono certo che avrete sentito parlare delle fette biscottate che sono esattamente quello che un italiano mangia a colazione in casa. Potete vedere dall'immagine che le fette biscottate non hanno niente a che vedere con il toast che conoscete voi. Per prepararle bisogna cuocere le fette di pane a cassetta due volte esattamente quello che il loro nome dichiara bis cotta cioè cotta due volte. Nei miei 25 anni in Nord America spessissimo mi viene fatto notare con un tono leggermente sdegnato che gli italiani non sanno preparare quello che in Nord America e Regno Unito prende il nome di toast. Pensando che l'equivalente italiano di toast sia proprio fetta biscottata. Ma ricordatevi che toast e fetta biscottata sono due animali completamente diversi. Non aspettatevi il classico toast se in un supermercato oppure in un bar leggete o trovate questo prodotto. Torniamo ora alla spiegazione delle definizioni che vi avevo dato nel precedente video. Vediamo la terza definizione che ci diceva che in Italia ogni regione ha il suo. E vi ho infatti già accennato come ogni regione italiana abbia il proprio pane tipico. Vediamo nei più particolari. Il pane carasau è un tipico pane sardo diffuso in tutta la Sardegna. Ha la classica forma di disco ed è molto sottile e croccantissimo. Per ottenere la caratteristica croccantezza l'impasto viene cotto due volte. Questo pane è specialmente adatto ad essere conservato per lunghissimi periodi. La classica e famosissima coppia ferrarese è un altro tipo di pane molto croccante. La caratteristica forma di questo pane deriva dal fatto che l'impasto dopo la lavorazione è modellato a forma di doppio cornetto come potete ben vedere dall'immagine. Il pane pugliese generalmente di grossa pezzatura con una crosta croccante e mollica con molte cavità. È probabilmente il tipo di pane tra i più saporiti. È ottimo per accompagnare salumi e formaggi oppure anche vivande di ogni tipo. Il più famoso è quello che proviene o se volete preparato secondo la tradizione della città di Altamura. Il pane toscano senza sale secondo la ricetta classica oppure col sale per chi come me non può farne a meno è un pane molto denso con pochissime bolle nella mollica. Poi c'è la caccia che è un pane condito di solito basso e rotondo ma ne esistono un'infinità di tipi. Questo tipo di pane è diffusissimo ovunque in Italia. Si può dire senza tema di smentita che ogni panetteria in ogni città italiana ha la propria ricetta tipica. La consistenza è molto variabile come lo sono forma, spessore, ricetta e soprattutto sapore. Molto spesso infatti gli italiani vanno in una particolare panetteria della loro città anche molto distante da dove abitano proprio per poter gustare la focaccia preparata da quel panettiere. Adesso voglio parlare un po' del cosiddetto pane fresco detto anche pane di giornata. Questo tipo di pane è quello preparato, cotto e consumato nello stesso giorno della panificazione. Dal momento che un pane di grossa pezzatura molto difficilmente può essere mangiato tutto nello stesso giorno? La frase pane fresco è principalmente usata per descrivere i panini sostantivo maschile plurale che sono un insieme di pani di forma per lo più tonda oppure ovale e soprattutto di peso limitato. Di solito non superano letto. Nell'illustrazione ne vedete alcuni di diverso tipo. Dovrebbe essere chiaro quindi che il panino che è un sostantivo maschile singolare si riferisce ad un solo dei panini di cui vi ho parlato. Vi dico questo perché so per esperienza diretta che spessissimo in Nord America e non solo ci si riferisce al singolo panino con la parola panini. Vi consiglio vivamente di tenere d'occhio la vocale finale di questa parola se e quando sarete in Italia. Infatti se al cameriere ordinate panini la persona che vi sta assistendo è pronta a chiedervi subito subito quanti panini volete avere e di che tipo. Quindi potreste finire con il trovare sul vostro piatto un minimo di due panini. Vediamo adesso il significato di qualche modo di dire italiano che ho usato nell'intro. Essere pane e cacio. Prima di tutto cacio è un sinonimo di formaggio. Il modo di dire significa andare d'accordo, essere a proprio agio con qualcuno, per esempio un vecchio amico. Si può, come ho fatto io nell'intro, usare questa espressione per indicare un oggetto reale oppure un concetto astratto, per esempio un argomento. Nell'intro ho usato questo modo di dire per riferirmi alla lingua italiana. L'origine del modo di dire è chiara. Infatti pane e cacio si completano a vicenda, in modo perfetto, esattamente come molto spesso accade tra buoni amici. Un altro modo di dire usatissimo che ho usato nell'intro ed è sottinteso dalla quinta definizione è il seguente. Essere pane per i vostri denti. Il significato è che qualcosa è adeguato alle vostre capacità intellettuali. Per esempio la frase la matematica è pane per i suoi denti significa che per questa persona capire la matematica non è un problema. Però molto molto spesso questo detto si usa al negativo. Per esempio nella frase la matematica non è pane per i suoi denti, voglio dire che la matematica è di gran lunga superiore alle capacità intellettuali. L'ultimo modo di dire dell'intro è rendere pan per focaccia che oggi significa vendicare o anche ricambiare un'azione ingiusta commessa nei nostri confronti con un'altra che noi facciamo alla persona che ci ha offeso. Vediamo adesso un altro modo di dire molto usato a pane e acqua che significa punire qualcuno per avere compiuto una cattivazione. In passato i prigionieri venivano tenuti a pane e acqua per aumentarne la punizione. Per analogia vivere a pane acqua ha il significato di condurre una vita molto frugale accontentandosi del solo necessario. Per esempio nella frase Mara vive da un anno a pane e acqua Mara vive in questo modo o per ragioni di ristrettezze economiche oppure per ragioni religioso spirituali. L'ultimo modo di dire per il video di oggi che voglio segnalarvi è il seguente essere buono come il pane. Il significato è che la persona di cui sto parlando è di buon cuore di animo generoso. A questo punto direi che posso anche finire il video rendetevi però conto che quello che vi ho detto oggi è solamente una piccolissima parte dell'infinito numero di locuzioni e detti che gli italiani usano quotidianamente nelle loro interazioni. Io vi ho aperto la strada adesso sta a voi continuarla seguendo il vostro interesse e soprattutto la vostra curiosità per la lingua e la cultura italiane. Bene è tutto per questo video se il video vi è piaciuto allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video e ricordatevi sempre it's my job to make your italian sound terrific. Ciao a presto!